La Perco è un'azienda che nasce oltre 20 anni fa e è a sede a San Petronburgo. È un'azienda che ha oltre 400 dipendenti e rivende in oltre 70 paesi del mondo. Il suo mercato sono i tornelli e i sistemi di controllo accessi. L'impianto produttivo ha una capacità molto elevata di oltre 600 tornelli mese. Noi siamo dell'Infordata Sistemi e collaboriamo con la Perco con successo dal 2010. Siamo entrati nel settore dei tornelli, proprio 4 anni fa con la Perco, e in modo inaspettato abbiamo avuto un successo che ci ha portato a creare un 15-20% di fatturato nel settore dei tornelli. Questo grazie alle qualità dei prodotti della Perco. Infatti i prodotti della Perco sono dei prodotti molto solidi, robusti e da design molto gradevole e apprezzato dagli utenti finali. Durante la Fiera Sicurezza 2014 presentiamo alcune importanti novità della Perco, come sono i nuovi portelli TTD08, il TTDR08, dotati con sistema di chiusura antipanico, adatti anche per installazione in ambienti esterni, oppure il nuovo VHD05, il portello elettromeccanico, che adesso ha disponibile anche un'anta da 90 cm. Oltre a questo presentiamo anche un'importante novità legata ad un portello con anta in ventro, il VMD06.